La riunione di oggi rappresenta uno dei primi appuntamenti del G20 ed è molto appropriato e simbolico perché se c'è un Paese che è intrecciato col turismo, vive di turismo, è il nostro. Tutto il mondo desidera venire qui. Purtroppo la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti a ospitare il mondo. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e le nostre campagne stanno riaprendo. Alcuni settori sono destinati a restringersi, ma altri a crescere. E io l'ho già detto altre volte, non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà forte come prima e più forte di prima. Nel frattempo il governo intende offrire un sostegno, non mi piace, un aiuto all'industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata. E naturalmente l'industria turistica figura prominente nel piano nazionale di ripresa e di resilienza. Veniamo all'immediato futuro. Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici, per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno, il certificato verde sarà pienamente operativo all'interno dell'Unione Europea. Grazie al pass, i turisti saranno in grado di spostarsi da un Paese all'altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, di essere vaccinati o di essere negativi ad un tampone. Queste sono le condizioni che normalmente si richiedono nel Green Pass. In attesa del certificato europeo, che ci auguriamo venga il più presto possibile, il Governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra regioni e che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per avere quello europeo, già dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano. Naturalmente le conclusioni di oggi sono da accogliersi con grande favore. Le linee guida del G20 di Roma per il futuro del turismo offrono una strategia chiara per la ripresa del turismo in tutto il mondo. In particolare sottolinano il ruolo essenziale che il turismo svolge e svolgerà nella ripresa, ma affermano anche la necessità di rendere il turismo più inclusivo, sostenibile, che protegga l'ambiente e coinvolga le comunità locali. Quindi sono grato a tutti i partecipanti a questa riunione ministeriale del G20, in particolare al Ministro Garavaglia per il loro importante e fruttuoso contributo e anche all'Ocse e l'OMT per il loro ruolo nella preparazione delle relazioni che accompagnano questo incontro. Quindi è arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia. E naturalmente non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo. Grazie.